In buona sostanza il Capo Dipartimento ha già trasmesso a mezzo lettera alla Regione Campania che si passa lo stato ordinario, si esce dall'emergenza, quindi si chiude una fase più che virtualmente nel senso che si cerca di portare le attività in capo a una sola struttura commissariale che è la struttura guidata attualmente dal Dottor Schilardi il quale oltre alla ricostruzione si vedrà anche costretto a continuare ad assistere alla popolazione come abbiamo sempre detto in quanto è previsto dall'articolo 18 della legge 130 al comma IBIS prevede esattamente che il commissario Schilardi si faccia carico anche dell'assistenza alla popolazione. Allora ci sarà un'ordinanza a firma del Dottor Schilardi che comunicherà la proroga delle misure si chiude lo stato di emergenza ma si prorogano le misure di assistenza alla popolazione per quanto riguarda la sistemazione alberghiera e per quanto riguarda il contributo dell'autonoma sistemazione si proroga anche lo stato di vigilanza alla zona rossa da parte delle zone delle forze dell'ordine ma questo sarà rendicondato evidentemente pagato dalla nuova struttura si chiarisce bene che le somme urgenze già completate praticamente restano a carico della struttura commissariale con Grimaldi per quanto attiene le urgenze che non sono ancora partite ma sono nella fase di avvio esempio un lavoro già appaltato ma che necessita delle autorizzazioni sufficienti e richieste per avviarle lì va chiarito atteso che i tempi di intervento non potrebbero essere inferiori ai 6 mesi va chiarito se queste saranno rendicondate ancora alla struttura Grimaldi per semplificare o saranno rendicondate alla struttura Schilardi in quanto andranno nella fase di ricostruzione quindi in pratica la struttura commissariale che fa capo a Grimaldi resta aperta tra virgolette per andare a definire completamente le fasi già avviate quindi sostanzialmente non cambia nulla se non chiudere le attività già in cantiere che sono proprie della fase di emergenza ma le misure attinenti a questa fase saranno tutte prorogate si aspetta il provvedimento da stasera e domani mattina per vedere chi fa cosa è evidente che coloro i quali sono ancora in albergo come era giusto preoccuparsi ieri di lasciarlo quando prima e trovare un'autonoma sistemazione lo si richiederà anche domani questo per ridurre i costi perché effettivamente i costi sono esagerati tutto questo sarà accompagnato dalla solita fase di andare a verificare chi aveva ed ha i requisiti chi non aveva e non ha i requisiti fa bene a preoccuparsi di lasciare l'albergo o se già usufruito di servizi chiaramente tutta la documentazione è stata trasmessa alla guardia di finanza per andare a verificare questa richiesta di requisiti ma questo succedeva al netto di chi materialmente se ne occupa che come abbiamo detto fino a domani mattina se ne occupa il dottore Grimaldi e da dopo domani mattina se ne occuperà il dottore Schilardi